Eccoci, buonasera a tutti gli amici di nuovo insieme. Stasera abbiamo delle belle novità, siamo moderatamente soddisfatti delle novità che ci sono, purtroppo dovremo parlare soprattutto dell'imprenditoria, della strage degli imprenditori, del commercio, del turismo, però abbiamo anche delle buone novità. Allora, innanzitutto, veniamo a un elemento determinante. Vi ricordate che l'altra sera abbiamo fatto una battaglia, abbiamo mandato anche mail, abbiamo lavorato su questa cosa, abbiamo trovato sul decreto che era stato appena emanato un articolo ed in particolare l'articolo 16, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui, l'articolo 16 proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza, vedete? L'articolo 16 che diceva i termini di emergenza dichiarati in scadenza al 31 luglio 2020 sono prorogati di ulteriori sei mesi e quindi avevamo detto, vedete? Quindi l'emergenza, gli stati di emergenza finiranno a gennaio 2021, articolo 16. Che cosa succede? Che oggi è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto dopo che è stato sottoscritto, controfirmato dal Presidente della Repubblica. Guardatelo, ve lo facciamo vedere. Già, vedete? Già abbiamo notato una cosa, eccolo qua. Già, vi ricordate? Erano 426 pagine, un tomo pazzesco che nessuno si è letto, ce lo siamo letti solo noi. Questo, eccolo qui, questo pubblicato è di 196 pagine. Andiamo a vedere all'articolo 16 e l'articolo 16 non esiste più. Misure straordinarie di accoglienza, guardiamo quello che era stato invece pubblicato l'altro giorno, proroga dei termini al gennaio 2021. Quindi, 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 pensiamo, pensiamo, non siamo sicuri che questo articolo di legge che avevamo detto illegittimo, gravissimo, illegale, anticostituzionale dal punto di vista giuridico folle, sembrerebbe che sia stato cancellato definitivamente dal Presidente della Repubblica. Se questo fosse successo, perché dobbiamo leggerlo tutto, però vi diamo già questa notizia in anteprima, siamo in anteprima a darvela, avremmo avuto una bella soddisfazione, avremmo conquistato una bella meta, avremmo conquistato, e la battaglia l'abbiamo iniziata noi, non l'hanno iniziata in Parlamento, l'abbiamo iniziata noi, su questo telefonino, e questa è la notizia che aspettavamo. Speriamo che sia confermata, ma vi rendete conto, l'altro ieri erano 426 pagine, oggi sono 186, dobbiamo rivedere tutto quanto, però se fosse così un pezzetto di questa guerra contro gli italiani è stato cancellato. Veniamo ad ulteriori cose importanti. Allora, dedico 4 minuti a una cosa, mi tolgo la toga perché riguarda me, mi state scrivendo tutti quanti, già da tempo, non ne ho parlato fino a oggi, lo accenniamo, vi rubo 2 minuti, 2 minuti. Ovviamente stiamo facendo un'opera fantastica, abbiamo 400-500 mila visualizzazioni di questi video, quindi una cosa fantastica perché? Perché si ha bisogno di colloquio, gli unici che colloquiamo siamo noi, uffici chiusi, non c'è nessuno che risponde, lo Stato ci perseguita, la polizia fa lo sceriffo nei nostri confronti, ma non per colpa loro perché li obbliga. Ovviamente tutto questo lavoro che stiamo facendo dà fastidio al potere, ma è una cosa normale, è ovvio che quindi ci sono una serie di attacchi alla persona dell'avvocato polacco. Come vedete non ho mai risposto, non ci interessa, anzi, perdonatevi, non ce ne frega assolutamente nulla, anzi, significa che diamo fastidio. Mi state però chiedendo di rispondere, allora il trucco qual è? Ve lo spiego. Il trucco è non rispondere, perché se rispondiamo, adesso vi faccio vedere così ne parliamo un attimo, ne parliamo un attimo, allora facciamo un esempio, facciamo un esempio, ovviamente non so chi sia, mi avete mandato, perché neanche li leggo, ovviamente perché non possiamo dare, noi stiamo lavorando, se c'è qualcuno che vuole fare il polemico, l'arrogante, che vuole fare il volgare, non ci importa nulla, noi stiamo lavorando, siamo propositivi, non vogliamo male ai nostri nemici, ma noi non abbiamo neanche nemici, noi siamo amici, noi siamo amici, siamo fratelli, siamo un popolo e dall'altra parte c'è il governo che sta facendo delle norme che secondo noi sono illegittime, tutto qui è finito e stiamo tentando di resistere con i metodi giudiziari, democratici, civili, democratici, costituzionali. C'è qualcuno che ci insulta, che mi insulta, ma non ci interessa, non dobbiamo cadere nel tranello. Ne vediamo un paio, questo tizio, guardate, non so chi sia, ovviamente, un certo Stefano Grandinetti, fate attenzione, è un infiltrato, polacco stai tradendo la Costituzione e la tua psicocosetta pagherà maledetti. Ecco, ma dico, ma che cosa serve, scusi signor Grandinetti, non so chi sia, ma andiamo a vedere chi è questo Grandinetti, chi è? Batterista, ha studiato scienze dell'educazione, ma guardi, scienze dell'educazione è in contrasto con maledetti, con gli insulti. Io non so che cosa desidera questa persona, ma a noi non interessa assolutamente nulla. Lasciamoli cuocere nel loro prodotto. Se ci insultano, vuol dire che ci temono, tanto semplice. Poi, dall'altra parte, ci sono i professionisti, ricordatevi, ci sono professionisti che vengono pagati per dare fastidio, per tentare di infangare gli altri e sono a pagamento. Mi avete segnalato questo, ho cancellato, perché attenti gli diamo anche importanza, ecco, male informazione, male informazione. L'avvocato polacco, dopodiché, chi è questo? 47 anni, bolognese blogger, blogger, quindi fa di professione, vengono pagati per distruggere gli avversari. Noi non siamo avversari di nessuno, cari signori, non ce ne frega assolutamente nulla, insultateci quanto vi pare, noi continuiamo per la nostra strada. Noi continuiamo per la nostra strada, perché la strada della legalità è della strada del popolo, ricordatevi. Dopo questa brevissima, brevessa, andiamo a vedere, allora, andiamo a vedere brevemente, poi passiamo all'imprenditoria. Mi state chiedendo, soprattutto gli amici di di Daniela Giara, ma che dobbiamo fare tamponi, vaccini, mascherine, con calma, con calma, stiamo facendo tutto, ci stiamo opponendo a tutto, con calma, stiamo verificando tutto ciò che è legittimo, tutto ciò che è impugnabile. Facciamo un esempio, c'è stato pubblicato, in questi giorni ci sono state interviste del professor Bacco, eccolo qui, non sappiamo che sia, però nessuno lo ha querelato, eccolo qui. E che cosa dice il professor Bacco in questi giorni? Il virus, ma una cosa che sappiamo tutti, il virus muta in continuazione e per questo il vaccino non ha motivo di esistere, il virus già adesso è ampiamente mutato rispetto alla variante che abbiamo riscontrato inizialmente, non lo diciamo noi, lo dice un medico legale, un primario, ma scusate, ma non è che siamo veramente sciocchi. Due mesi fa il virus era virulento, ha ucciso in continuazione, poi qualcuno ci dovrà spiegare perché ha ucciso proprio in Lombardia e in alcune sacche. Amici, non è un caso, ci dovrete spiegare, qualcuno dovrà studiare perché in quel punto è stato virulento, perché quando i governatori del sud Italia vanno in televisione e dicono abbiamo fermato il virus, vi prego, vi preghiamo, non siate ridicoli, ma noi vi vogliamo bene, siete fantastici, state facendo un'opera venitoria, ma non siate ridicoli. Se per caso il virus si fosse spostato al sud Italia con la violenza con cui è attaccato la Lombardia, in Italia era una carneficina, ecco, tanto per dirlo, siamo stati fortunati, siete stati ancora più fortunati di noi. Il virus è cambiato, ma lo si vede tutti quanti i giorni, era immensamente aggressivo, adesso è latente, adesso è certamente un virus che quasi certamente non è più mortale, non lo diciamo noi, lo dicono i simi studiosi, per cui, dicono gli studiosi, è un virus come il virus dell'influenza, a novembre c'è un virus dell'influenza e va bene quel vaccino, dopo cinque mesi quel vaccino non serve assolutamente più a nulla, perché è un altro virus, si è riplicato e modificato. Quindi sui vaccini che non servono, noi non facciamo una battaglia ideologica, mettiamolo in chiaro, io personalmente l'avvocato polacco non fa una battaglia ideologica, nel senso che i vaccini se non servono a nulla vanno opposti, se dovessero servire vanno fatti. In questo momento abbiamo le prove scientifiche che i vaccini in questo momento non servono, poi vedremo se qualcuno ci convincerà della purezza dei vaccini che saranno messi in commercio e poi ne riparleremo. In questo momento è un problema che non ci tocca. Se le regioni faranno dei decreti regionali, vaccinali, che sono illegittimi, li impugniamo tutti, li tutto ciò che è illegittimo lo impugneremo, non ne passerà uno, sempre nei limiti, sempre nei limiti della legge, della democrazia e della Costituzione. Andiamo, tamponi, anche i tamponi, i tamponi non sono obbligatori, se vi vogliono obbligare, guardate quale modulo vi fanno firmare, se ci sono problematiche di obbligatorietà ce lo dite e impugniamo le singole, perché ogni amministrazione, ogni fabbrica sta facendo come gli pare, non si può fare come, non si può fare, non ci può essere l'anarchia, ma a ogni provvedimento, a ogni provvedimento c'è la possibilità di ricorrere, noi siamo qui. E lo ricordo, ma lo ricordo solo perché poi qualche sciocchino malizioso ogni tanto lo facciamo gratuitamente sempre. Tutte le impugnazioni che abbiamo fatto fino a oggi sono state gratuite e lo ribadiamo. Allora, quindi, ricordate, tamponi, vaccini, se saranno fatte ordinanze illegittime le impugneremo. Mascherine, allora sulle mascherine siete, molti di voi sono completamente contrari, noi non facciamo ideologia quindi non diciamo né contrari né pro, però per dare un obbligo ci deve essere un riscontro. Prima scientifico, perché non mi potete dire mettete il cappello perché piove e vi obbligo, perché io mi voglio prendere la pioggia, ma se mi devo mettere la mascherina mi dovrete dare delle prove scientifiche che è indispensabile e poi fate il decreto legge. Al contrario di quello che pensiate, perché le cose vanno lette, io ve lo dico tante volte, avete tanti di voi su quei famosi moduli autocertificativi, continuate a dire no perché non posso dire di essere positivo, non c'era scritto. Alcune volte si leggono le cose senza pensare e quindi si interpretano male. Cosa dice il decreto solo mascherine? Non vengono assolutamente imposte, assolutamente, perché non si potrebbe. E allora cosa dice? Leggiamolo, non diciamo sciocchezze, non diciamo, leggiamo bene le norme. Eccole. Ai fini del contenimento è fatto obbligo sull'interno nazionale di usare le protezioni per le vie respiratorie nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico, quindi innanzitutto è accessibile al pubblico, per cui se è un ufficio non accessibile al pubblico la legge non le prevede. Poi non è finito, non è finito. In cui è comunque in tutte le occasioni, non sempre, vedete che dice leggiamo bene, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Significa che se in un posto al chiuso la distanza di sicurezza è mantenuta, non c'è bisogno delle mascherine. Fotografatevi questo articolo, questa norma per cortesia, perché è ora di smetterla di dire sciocchezze. La norma non prevede le mascherine se c'è la distanza di sicurezza. Ve la sto facendo vedere, fotografatela. Questa spero che sia determinante e definitiva. Allora, e quindi abbiamo parato mascherine di tampone e vaccino. Adesso andiamo a una nota graziosa. Vedete questo lavoro che stiamo facendo? Oltre a dieci che ci insultano, e l'abbiamo detto, non ce ne frega nulla, abbiamo centomila, centomila di voi che ci vogliono bene, con cui dialoghiamo tutti i giorni. L'affettosità, l'amore che c'è tra di noi. Dall'altra parte, in giro, c'è tanto odio. Noi, no, diamo affetto tra di noi. Stiamo creando un popolo di persone che si vogliono bene ed è fantastico. Vi voglio leggere due righe di due ragazze, due ragazze sconosciute. Guardate cosa ci scrivono. Ecco, una lettera del genere, anzi quattro righe del genere, ci riempiono di gioia. Questo che leggiamo adesso è l'amore verso il sottoscritto, ma verso di voi. È questo l'amore che ci lega, è questo ci deve dare coraggio, ci deve dare ancora più coraggio. Queste due ragazze, ve le leggo perché ci sono i numeri di telefono e quindi, che cosa dicono? Abbiamo capito che avete tantissimo lavoro nel vostro studio legale. Abbiamo pensato quindi che poteva essere utile un aiuto non retribuito per svolgere semplici mansioni di segreteria e seguire tutte le pratiche del coronavirus. Michela e Valeria. Ecco, noi ringraziamo, ringraziamo e abbiamo anche, ovviamente, questa è l'ultima, tante persone, vi vogliamo un bene immenso e noi riusciamo a fare questo lavoro, questo grandissimo sacrificio proprio per l'affetto che ci dimostrate tutti quanti i giorni. Imprenditori, partite IVA, turismo, è una carneficina. Quello che non ci spieghiamo, ve lo dico veramente con affetto perché poi alla fine è facile, ma lo dico abbiamo tantissimi amici che vivono e lavorano nella pubblica amministrazione, ma è facile oggi, in questo momento, perché c'è una certezza. Da una parte c'è una certezza degli stipendi, quindi c'è la certezza di mangiare anche con sacrificio perché non bastano i 1300 euro al mese. Dall'altra parte ci sono imprese distrutte, sacrifici di generazioni distrutti, perché? Perché non c'è stato nessun impegno certo per la tutela delle imprese, zero, chiacchiere, 55 miliardi, 30, 90, la lotteria, avremmo giocato, se ci fosse stato il lotto avremmo vinto un sacco di soldi con i numeri che ci hanno dato. E allora in questo momento, in questo momento in cui in teoria ci potrebbe essere, non ci sarà un euro, ricordatevelo, ci potrebbe essere qualche euro, chi fa? Chi li succhia? Tutti, immediatamente. Eccoli. Eccoli qua. Ecco qui. I soldi ci sono per Agnelli e Bedetto, non lo stiamo dicendo noi, sono i giornali di ieri. Pure l'azienda di De Benedetti, in fila per la garanzia dello Stato. Sace, la Sace è lo Stato, piena di soldi per la Fiat, FCA. Con un ritardo di una settimana per il vaglio delle regioni dei dello Stato il provvedimento è stato bollinato. E c'era solo un miliardo, sono diventati, dopo che la Fiat li ha chiesti Benetton e altri, sono diventati 30 miliardi. Ecco. Quindi, diciamo, cari imprenditori, ecco a chi andranno gli unici soldi a disposizione. Però vi voglio far vedere una cosa. Chi è che fa tutta questa manovra, la manovra finanziaria, questo è il fulcro della nostra politica economica in questo momento. Eccolo qui, il ministro Gualtieri, che sta organizzando questa manovra. Scusate. Allora, vi voglio far vedere un documento. Come al solito noi riusciamo poi a vedere documenti. guardate. Leggiamolo insieme. Guardiamolo insieme. Guardate, non sappiamo chi è. Anzi, voglio vedere, adesso vi faccio vedere questa nota. Voglio vedere se qualcuno di voi immediatamente, in cinque secondi, indovina. Laureato in lettere, ha conseguito il dottorato in scienze storiche, professore associato di storia. Poi ci sono anche, questa è Wikipedia, non lo stiamo inventando noi, poi ci sono le caratteristiche politiche. È iscritto dalla VGC dal 1985, Federazione di Giovanni di Comunista, prende la testa del Partito Comunista Italiano, eccetera. Ma che sono le notizie politiche. Ma le notizie biografiche l'ha coreato in lettere, professore di storia contemporanea. Chi sarà? Ditemi, vi sto guardando. Chi sarà? Chi sarà? Nessuno. Fino adesso ha indovinato. Guardiamo insieme chi sarà. Ecco, ve lo faccio vedere. Chi sarà? Roberto Gualtieri. Come? Il ministro delle finanze italiano, laureato in lettere, professore di storia contemporanea. Non ho null'altro da aggiungere. Vi ho fatto vedere un documento ufficiale, andate su internet. internet è buona. Imprenditori, questa è la situazione. Questa è la situazione. Sarebbe, che altro vi dovrei dire? Questa è la situazione. E come fate voi a campare? Allora, dovete, chiunque, chiunque dal bar al ristorante, alla fabbrica, al chiosco, sanificare due o tre volte al giorno, mascherine, plexigas, metri quadrati in meno, ogni 40 metri quadrati una persona? Vi hanno dato dei soldi per fare tutto questo? Vi hanno dato un euro? Dovete pagare le tasse alla fine dell'anno? Dovete pagare acqua, luce e gas? Dovete pagare i contributi ai lavoratori? Dovete pagare i lavoratori? Sì. Dovete fare tutto. Il governo, lo Stato, l'Italia non vi dà un euro. Questa. Purtroppo è questa. Dopodiché ci si mettono le linee guida dell'INAIL. Scusatemi, perdonatemi, imprenditori che ci state ascoltando, abbiamo anche un gruppo di imprenditori fantastici di San Benedetto del Tronto che ci dicono, ma scusate, ma noi come facciamo a mettere gli ombrelloni in dieci metri quadrati? Adesso ne parliamo. Ma scusatemi, ma com'è possibile l'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro che fa le linee guida di dove devono stare gli ombrelloni? Se me lo spiegate, io vorrei uno di voi me lo può spiegare. Istituto Nazionale del Lavoro che dice, afferma che gli ombrelloni devono stare, ogni ombrellone dieci metri quadrati e altre cose di questo genere. Ma dove sta scritto? Cosa ci dicono giustamente, cosa ci dicono giustamente gli imprenditori che hanno il stabilimento sull'Adriatico che poi sono, è la stragrande maggioranza degli imprenditori ballenari d'Italia? Cosa ci dicono? Scusate, a noi ci dovete, perché in un negozio si può stare a un metro e mezzo di distanza. E invece sulla spiaggia dove c'è sole che uccide virus, acqua di mare che uccide virus, sale, iodio, perché un ombrellone deve stare a dieci metri in dieci metri quadrati. Ma qual è il concetto? La distanza è un metro e mezzo in un locale chiuso, quindi c'è umidità, c'è il respiro che rimane all'interno. Ma al mare, col sole, con lo iodio, col sale devono essere cinque metri. Ma qual è il meccanismo? Se ce lo spiegate e ci convincete noi saremmo soddisfatti, ma almeno spiegatecelo. Allora, giustamente dicono gli imprenditori balneari, soprattutto quelli dell'Adriatico, scusate, ma quando io metto un ombrellone in dieci metri quadrati, quell'ombrellone fino alle undici di mattina, quando il sole non è a picco, fa ombra sull'ombrellone dietro. Quelli dietro ci devono spostare per forza per prendere il sole, è tutto un meccanismo. Allora, la regola era normalissima, fate stare chi prende il sole a due metri di distanza, finito, basta. Eccola la logica. Io vi prego, governanti, metteteci un minimo di logica, un minimo. Prendiamo gli studenti di un liceo, classico, scientifico, ragioneristico e mettiamoli a scrivere le norme. Riusciremo ad avere delle norme logiche, almeno logiche. Imprenditori, non è finita qui. Che succede? Ormai, ormai, ormai abbiamo capito tutti i trucchi, non ce ne sfugge nessuno. L'Europa non esiste più, è palese. L'Europa ci sta distruggendo scientemente, non è l'Italia, l'Europa su ordine della Germania ci sta distruggendo scientemente. L'Italia deve essere distrutta, deve fare la fine della Grecia e la Germania entrerà in Italia e ci comprerà a quattro soldi, come ha fatto con tutti i porti della Grecia, che sono di appannaggio delle aziende tedesche. Allora, cosa stanno facendo i tedeschi? Mentre i nostri ministri, ma ribadiamo, noi non ce l'abbiamo con il ministro perché è di sinistra, destra, non ci frega nulla. Noi, a parte il fatto che un giorno ne parleremo, ancora qualcuno pensa di essere di sinistra, di centro, di destra, quando non esiste proprio assolutamente più. Qui ci sono il potere da una parte e il popolo dall'altra e abbiamo finito. Le distinzioni politiche sono il potere da una parte, il popolo dall'altra. In mezzo non c'è più nessuno, non c'è più nessuna ideologia che tenga. Il popolo ormai non è rappresentato da nessuno in questo consesso, in questo consesso, in questo consesso. Però, cosa sta succedendo? Guardate, vi faccio vedere un solo titolo, ce ne sono decine, ma noi li andiamo a pescare. Sono già stati, mentre noi stiamo giocando a fare i ministri che fanno le passeggiate davanti Facebook. I tedeschi, qual è la nazione in questo momento più colpita dal coronavirus in Europa? Lo sapete? La Spagna, no? Ecco, guardate, i tedeschi hanno giocato gli accordi turistici, i tedeschi in vacanza nel metà giugno, Mallorca, Spagna, Mallorca e Spagna, non è maldive, in vantaggio sull'Italia. Berlino sta studiando accordi turistici con vari paesi, compresa la Spagna, a rischio Covid, anche l'Austria blocca le frontiere nei confronti dell'Italia. I turisti stranieri tedeschi hanno portato in Italia ogni anno 7 miliardi di euro. Questi 7 miliardi, cari nostri amici della riviera Adriatica ed altri, questi se ne andranno tutti. Ma non se ne andranno tutti perché è brutto il nostro mare, perché voi siete antichi, per colpa di chi ci governa. Ecco, è semplice. La Spagna con la Francia, la Spagna con la Germania stanno facendo accordi contro l'Italia. Nessuno fa nulla. Nessuno fa nulla. E questa è la risposta. Allora, cosa sta succedendo? Ad obberare ancora più i nostri operatori, imprenditori, dal turismo, anche semplici negozi, ci si mettono anche le ordinanze comunali e regionali per cui il governo decide X, la regione XY, il comune XXX. Quindi voi siete gravati, siete, sarete gravati da ulteriori norme. Allora, noi ovviamente siamo a disposizione, lo sapete, però le vostre organizzazioni di categoria su ogni ordinanza contro di voi devono fare ricorsi al TAR. Su ogni ordinanza contro di voi. Ma perché bisogna solo... perché sento qualche presidente di confcommercio, confartigianato che fa qualche dichiarazione? Ah, chiederemo un appuntamento. Ma che appuntamenti chiedete? Presidenti delle vostre associazioni, ma che appuntamenti? Fate i ricorsi, ribellatevi giuridicamente, ribellatevi giuridicamente sempre con la forza della giustizia. La giustizia è lunga, è difficile, ne parleremo domani. Domani parliamo dei magistrati e della magistratura e della giustizia. Domani parliamo di questo, lo sapete? Però arriva, però arriva, però arriva. Ieri, ieri è stato arrestato il capo della procura di Trani, non mio nonno. Il capo della procura di Trani è stato arrestato. No, tanto per dire... la giustizia poche volte ma arriva. E allora? Allora, imprenditori, commercianti, balleari, albergatori, negozianti. Le vostre associazioni devono porci a tutti i decreti. Il DPCM è impugnabile davanti al TAR, lo sto dicendo. Costa 650 euro, ma la vostra organizzazione lì avrà 650 euro da spendere. Speriamo 650 euro. Noi lo stiamo facendo con i nostri contributi. Sì, con i nostri. Lo stiamo facendo. Nel nostro piccolo stiamo ottemperando a quello che ci dà la possibilità la legge. E ricordatevi, stiamo anche facendo l'opposizione al decreto della Regione Lazio contro i vaccini da settembre. Tante altre cose. Allora, noi vi invitiamo a percorrere le nostre strade di battaglia giuridica, democratica, costituzionale. insieme alle centinaia di migliaia di cittadini che ci seguono. Ci vogliono bene perché sanno che stiamo facendo tutto questo per la nostra libertà. Ci vediamo domani sera. Vi ricordo quello di cui parleremo domani sera e dopo domani sera. Puntate importantissime. Vi ricordo sempre che condividiamo al massimo. Condividi, condividi, condividi questi nostri collochi. Ecco quello di cui parleremo domani sera e dopo domani sera. Domani sera la magistratura italiana sotto processo. Ne vedremo, vedremo documenti di tutti i generi veramente eclatanti e venerdì finalmente i ricorsi contro le multe. Li faremo insieme e così non ci sarà più nessuno che è angosciato da dover fare questi ricorsi. Insieme, insieme impugneremo le multe illegittime. Un abbraccio a tutti. Vi voglio bene. Ci vediamo domani sera alle 19. Ciao.